Tre persone residenti in via delle gueglie a Gromola, fra cui una bambina, sono finite in ospedale per rintossicazione da pesticidi. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale che hanno eseguito un sovralluogo insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri forestali delle stazioni di Focesele ed Agropoli. A loro si sono aggiunti i funzionari dell'ARPAC che hanno effettuato i prelievi sul terreno interessato per verificare la tipologia di prodotto utilizzato e il relativo grado di tossicità. Le prime attività investigative hanno consentito di individuare il responsabile di tale azione, che è stato deferito all'autorità giudiziaria. Attendiamo i risultati dell'ARPAC per prendere i dovuti provvedimenti al fine di evitare che queste scelerate azioni vengano ripetute anche in futuro, spiega il sindaco Palumbo. I prodotti fitosanitari vanno utilizzati in modo corretto, seguendo quelle che sono le direttive normative in materia, così da evitare rischi per la salute umana. Grazie a tutti.